...un ufficio, folk. Non hai l'autorizzazione. Arrivati! Cimici piazzata, me ne vado. Ancora un po' di pazienza. E' un po' di pazienza in pista. Ben fatto. Sono curiosa di sapere perché la WFYU si piazza delle Cimici. Ma niente domande, giusto? Ti manderò un compenso, grazie. Fate, il carus è scomparso e non riesco a trovarlo sul pulsar. Amore.